La salute vi è mangiando con il nostro esperto nutrizionista Salvatore Cusenza. Buongiorno, ben trovato, benvenuto. Buongiorno a voi. Mi stava prendendo in giro per la mia carnagione bianca, ma io ho detto che quando vado al mare metto sempre la protezione 50. Caro dottore, una cosa buona e giusta. Anch'io faccio questo e molte volte mi sento dire ma così non ti abbronzi. In realtà è un filtro per i raggi ulteriore veletti, non significa che la melanina non viene stimolata. Non ti ustioni, diventi direttamente più abbrato senza causare i danni alla pelle. E anche quando non c'è il sole, c'è quel cielo velato, il sole fa i suoi effetti sulla pelle. Non deve essere forse il sole brillante che ti ustiona per abbronzarsi. Io anche durante l'inverno utilizzo almeno sul viso la protezione 50. Perché San Giovanni è un noto posto di sole. Allora, parliamo di nutrizione. Ecco, ho preparato un po' di domande anche in vista delle vacanze che stanno arrivando. Una domanda così a bruciapelo. Ci sono dei cibi che fanno dimagrire? No. Mi hai spenta, così? Assolutamente no. Non ci sono. Altrimenti non ci sarebbero due miliardi di sovrappesi obesi al mondo. Cioè un quarto della popolazione mondiale è in sovrappesa obesa. Quindi il tutto sta nella regolarità e nel consumo calorico cercando di tenerle sempre un po' basso, vicino al metabolismo basale. Non eccedere. Il trucco è sempre quello. Non creare sbalzi glicemici durante la giornata e quindi avere una glicemia piatta, poche oscillazioni, poca produzione di insulina e non eccedere con i carboidrati. Perché sono quelli che poi si vengono trasformati per un processo biochimico in grassi. Non ho visto mai nessuno ingrassare perché mangia solo il lardo di colonnata da solo. Se poi all'ardo di colonnata ci aggiungiamo mezzo chilo di pane è un problema. Non a caso la dieta chetogenica, che se ne parla tanto, che nasce per le crisi epilettiche e l'emicrania e non per dimagrire, è fatta da grassi e proteine, senza carboidrati. E fa dimagrire comunque. La dieta chetogenica nasce 104 anni fa per le crisi epilettiche. Si è visto che riducendo sempre di più i carboidrati, il figlio di questo medico, che in questo momento non mi viene il nome, ha sempre meno crisi perché si utilizza nei bambini epilettici dove il farmaco non funziona. Fino a che ha ridotto totalmente i carboidrati, il bambino stava meglio. Si applica nell'ovaio policistico, nella fibromialgia negli ultimi anni, nel diabete tipo 2 dove non si utilizza l'insulina e anche nell'emicrania. E poi si è visto che queste persone perdevano anche tanto grasso perché attivavano una via metabolica dei grassi e non del carboidrato, perché il carboidrato non c'era, quindi andava a consumare grasso, producendo corpi ketonici, che sono tre, l'acetone, il beta-idrossibiturato e l'aceto acetato, e queste sono le uniche sostanze che arrivano al cervello insieme allo zucchero. Quindi non hai cali, svenimenti, come qualcuno può pensare. Non mangio la pasta, mica svengo, no, sei meglio. Sei meglio. Allora, l'estate è arrivata, quindi le temperature sono giorno più, giorno meno anche abbastanza alte. Domanda che riguarda il gelato, tanto amato, ma almeno da molte persone. Gelato a pranzo o a cena si può fare se mangio solo il gelato a pranzo o solo a cena? Allora, sicuramente non è un pasto completissimo. Se capiti di sostituire il pranzo o la cena con un gelato, non succede nulla, ma non deve essere la quotidianità. Cioè, tutti i giorni d'estate il pranzo mangio il gelato. Non è il massimo, anche perché ha poche proteine, pochi grassi, un po' più di zucchi. Non è un vero pasto, a meno che poi non mangiamo un chilo di gelato e lì sono problemi. Un chilo di gelato no, esagerato, ci piacerebbe però. Ecco, a proposito di gelato, quindi come gestire una sana alimentazione quando si è in vacanza? Perché quando si è in vacanza si lascia da fuori. Che dico sempre ai pazienti, la vacanza dura una settimana? Goditela, cercando, cercando di non fare troppi danni, perché altrimenti non sarebbe una vacanza. Se dura due settimane la vacanza? È la stessa cosa, cerca di non distruggere quello che hai fatto prima. È un po' più problematica la crociera, perché capisci bene che in una crociera dove su un equipaggio di 1200-1300 persone, 5-600 lavorano in cucina, c'è un motivo, sfornano sempre cibo a qualsiasi ora. Quindi la crociera è un po' più problematica perché c'è di tutto di più. Io non sono un'esperta, l'esperto sei tu. Scusami Paola, c'è proprio uno studio che dice che in crociera in una settimana si aumenta da 3 a 7 kg. Logicamente più della metà di queste è ritenzione idrica, è acqua che il corpo trattiene per l'eccesso di carboidrati, di sale e quant'altro. Certo, quindi diciamo che però credo sia improbabile ingrassare in due settimane, cioè si ingrassa magari in un anno, in due anni, difficile che uno in due settimane getti alle ortiche quello che è magari il percorso di un anno. Come dire, sono ingrassato tra il 24 dicembre e il 26 dicembre, assolutamente no. Di quel peso che si aumenta anche nel periodo di Natale, più della metà è acqua che il corpo trattiene. Perché ricordiamoci sempre che un grammo di carboidrati lega e trattiene 4,5 grammi di acqua. Esempio, mangio la pizza il sabato, sono 300-400 grammi di carboidrati messi insieme, il bolo di carboidrati. La mattina dopo il giorno dopo ho preso un chilo e mezzo in più. Non sono né ingrassato né dimagrito, il corpo trattiene tanta acqua, magicamente dopo due giorni sono dimagrito. No, hai perso quell'acqua che è legata. In crociera questa cosa si perpetua per 7-8 giorni, quindi ci possono essere quei 3, 4, 5, 6 kg in più, di cui più della metà è acqua. Poi c'è anche chi dice no, io mangio regolarmente ai miei pasti e non succede nulla. Però la crociera tendenzialmente tende a stimolarti con gli occhi e con la gola perché si sforano sempre pizza, dolce e quant'altro. Il problema sono sempre i carboidrati poi alla fine, l'eccesso di carboidrati. E sono quelli che a livello celebrale danno soddisfazione. Esatto, non la tagliata di carne. Assolutamente no. Ecco, un'altra tentazione è la cosiddetta colazione a buffet negli alberghi quando si va in vacanza, perché lì non è cappuccino e cornetto, ma trovi magari tante cose buone. Assaggio qui, assaggio lì e... E facciamo l'effetto crociera. L'effetto crociera. Allora, colazione a buffet, io personalmente preferisco sempre quella salata. Preferisco le uova, in caso mai qualche grasso, la ricotta. Preferisco più, non il dolce. Quindi buttarsi sul salato, assumere anche più calorie, più grassi, ti sazia, non crea questi dislivelli glicemici e ti fa stare meglio. Eviti danni, fai meno danni. La colazione salata, più ricca di grassi e proteine, ma con meno carboidrati. Gira e rigira, sempre quello è il problema. Siamo sempre lì. Come la vogliamo raccontare, raccontare, stiamo sempre lì. Quindi, se invece volessi fare colazione barra brunch a metà mattina da colazione, a buffet e cena, saltando il pranzo? Tendenzialmente se fai una colazione alle 10, 10 e mezzo, salata, abbondante, con anche della frutta, lo yogurt, e a pranzo lo salti, non è sbagliato. Anche perché fai una colazione alle 10 e mezzo alle 11, alle 3, alle 4, ci sto qualcosa da bere e la ceni. Cioè, una colazione fatta in quel modo, fa la colazione e pranzi insieme, ti sazia, ti fa stare bene. Quindi è consigliabile in una vacanza dove la colazione è al buffet, farla salata, più ricca, aggiungendo anche della frutta e dello yogurt, oltre al salato, e tirare avanti fino alla sera. Con un piccolo spuntino di pomeriggio, che potrebbe essere un piccolo gelato, una granita, una macedonia. Quindi ai croceristi potremmo consigliare anche questo. Sì, ma i croceristi a me non mi ascoltano proprio perché in crociera c'è di tutto e di più, quindi... Meglio non andare proprio in crociera. Ma infatti io non c'entrò mai in crociera, perché io lo so che se vado farò di tutto e di più, perché mi conosco, assaggerò tutte e resisterò due giorni, gli altri cinque farò schifo. Non so se questo però, come dire, dottor Cusenza ti può giocare a favore, perché quando poi i nostri amici guarderanno queste interviste diranno Ah ecco, il mio nutrizionista va in crociera, però sappiate che non andare in crociera. Il problema è mai dire mai, può sempre capitare l'occasione di andare in crociera, al momento escludiamolo magari. L'unica crociera che farei è il giro del mondo, quello che dura un anno. Quello che dura un anno, va bene. Allora, abbiamo visto anche in sovraimpressione la mail per contattare il dottor Salvatore Cusenza, vediamo se la regia mi regala il promemoria, eccolo qui, dr.cusenzasalvatore.gmail.com Lo diciamo a chiusura di ogni appuntamento, rivolgersi agli esperti. Quindi lasciamo stare Instagram, TikTok per avere consigli sulla nutrizione. Quello è il minimo, per non parlare degli avventati, degli improvvisati, che è un altro settore molto diffuso, delle diete fatte con i prodotti network marketing, adesso si chiama network marketing, prima si chiamava Caterina di Sant'Antonio, per chi non la conosce. Ma è la stessa cosa, è solo tradotto, quel santo è stato trasformato in un lavoro. In un, come dire, un inglesismo che può essere. C'è di tutti e più gente che non ha lavoro, che si improvvisa e poi ti ritrovi qualcuno che ha problemi a livello renale, sbatte per terra, sviene, insufficienza di alcune cose. Quindi rivolgersi agli esperti del settore. Grazie per essere stato con noi e appuntamento a martedì prossimo, poi magari andremo in ferie, ora ci organizziamo, però sul nostro canale YouTube potrete trovare nella playlist La Salute di E' Mangia. Questa è anche le altre puntate con il nostro esperto, il dottor Salvatore Cusenza. Grazie per essere stato con noi, linea regia e poi di nuovo insieme. Grazie per essere stato con noi, linea regia e poi di nuovo insieme.